E' appena finita allo stadio Rigamonti Brescia-Monza 1-2 per i Bianco-Rossi, partita valevole per l'andata dei playoff di Serie B, stiamo parlando delle semifinali, una è Brescia-Monza e l'altra è Benevento-Pisa. Comunque, vittoria importante, molto molto importante per i ragazzi di Stroppa, io ovviamente sono contento in quanto tifo magari un po' esagerato, però comunque lo sapete benissimo, simpatizzo il Monza e spero vivamente che salga in Serie A, che quindi raggiunga la massima categoria italiana. Comunque, vittoria che è molto importante perché intanto comunque ti proietta sempre di più verso la finale dei playoff e poi arriva in trasferta, comunque una vittoria ti dà la possibilità di avere a ritorno due risultati utili, quindi ovviamente si può vincere ma puoi anche pareggiare e passi, poi in caso di sconfitta bisogna vedere ovviamente dal risultato e dai gol che si prendono. Comunque, parlando della partita, partiamo dall'inizio ovviamente, dal primo tempo, Brescia che parte benissimo e gli uomini di Stroppa sembrano addormentati proprio in balia degli attacchi del Brescia che ci mette veramente sotto in una maniera pazzesca nei primi dieci minuti, veramente tantissime occasioni, ma infatti ci è andata bene che ci hanno fatto solo un gol perché meritavano assolutamente di più con tutte le occasioni che hanno avuto, hanno colpito anche un palo verso il quindicesimo minuto, mi sembra Monza che invece verso fine primo tempo, un po' prima, circa dal trentesimo minuto in poi, riesce ad entrare in partita, finalmente riesce a ingranare, cambia marcia e nel finale di primo tempo, dopo varie occasioni anche per noi, trova il pareggio con Gitkier, palla dentro da Churria e Gitkier colpisce, gran periodo dell'attaccante danese, comunque si conferma un ottimo giocatore molto importante in questa stagione per i biancorossi, infatti dieci gol in stagione per lui come Danimota, inizia il secondo tempo, al cinquantacinquesimo arriva l'1-2, quindi rimonta la ribalta, il Monza sempre con Gitkier e questa è un'azione bellissima con due giocate pazzesche, recupero in difesa, ripartenza, ma Cine mette un pallone spettacolare, veramente spettacolare per Danimota, calcolato benissimo, preciso, al millimetro, filtrante, tagliando la linea dei difensori, lo mette proprio sul piede, sulla corsa, veramente preciso, perfetto, Danimota che comunque è una grande falcata, veloce, agile, si invola verso la porta, affronta Joronen, va sul destro, fa finta di calciare, poi se la sposta verso sinistro e Joronen che con un intervento non compostissimo, però non era facile, visto che comunque Danimota ti ha fatto la finta di calciare, poi rientra, lo prende in pieno con il piede, Danimota forse accentua un po' la caduta, ma è anche giusto così, però il contatto è netto, hanno fatto rivedere decine di replay ed il contatto è veramente netto, quindi rigore giusto, va ancora Gittker dal dischetto che non sbaglia, spiazza Joronen, è un rigore molto bello, angolato, veramente imparabile, intanto stanno facendo rivedere il gol di Moreo al settimo minuto, comunque, ripeto, vittoria molto molto importante, secondo tempo buono, assolutamente buono, nel finale secondo me ci abbassiamo un po' troppo, abbiamo anche rischiato di farci pareggiare, però ci stava comunque, stai difendendo il vantaggio, anche Paletta che si è stirato, si è fatto male, ha dovuto uscire, quindi eravamo anche un po' in difficoltà su questo piano, comunque è andata bene, ci prendiamo questa vittoria volentieri, molto molto importante, comunque adesso testa il ritorno, anche in attesa di conoscere quale sarà l'esito finale dell'altra semifinale, ossia Pisa-Benevento, perché giocherà in casa il Pisa, comunque voi, come al solito, fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento, un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale, e niente, noi ci vediamo alla prossima, bella!